A che ora inizia e finisce Sanremo gli orari della seconda serata del festival? Il festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Aristone in onda su Rai 1 in prima serata. Le cinque serate del festival saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato da diversi co-conduttori e co-conduttrici. Nella seconda serata, che si terrà l'8 febbraio, toccherà a Gianni Morandi e Francesca Fagnani affiancare il conduttore e tra i super ospiti ci sono Albano e Massimo Ranieri che formeranno un inedito trio con Morandi. Ci saranno, inoltre, come ospiti internazionali i Black Eyed Pass poi ci sarà un momento comico con Angelo Duro e Francesco Arca che presenterà la fiction Resta con me. La scaletta prevede l'esibizione della seconda metà dei 25 cantanti in gara. È già nota la scaletta completa della seconda serata con le esibizioni dei cantanti in gara. Tra questi gli articolo 31, Giorgia, Madame, Tananai, Paola e Chiara Emoda. La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 va in onda mercoledì 8 febbraio su Rai 1 e inizia alle 20. 40. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate. Dal prima festival condotto da Andrea De Logu, affiancata da Gio Di Cecchetto e gli Autogol, previsto dalle 20, 30 alle 20, 40. La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 finisce da programmazione a l'1, 30. Ma non finisce qui perché Fiorello condurrà su Rai 1 il suo Viva Rai 2, Viva Sanremo di notte che avrà funzione di dopo festival e andrà in onda su Rai 1 dopo tutte le serate. Da martedì 7 a venerdì 10 febbraio. L'edizione notturna di Viva Rai 2 durerà 45 minuti tra notizie. Varietà e curiosità dall'Ariston, grazie anche ai collegamenti in diretta con l'inviato al Festival. Gabriele Vagnato. Tutto in compagnia di Fiorello e Biggio come scritto sul sito ufficiale della Rai e di tutto il cast di Viva Rai 2. Dal Glass Studio di Via Asiago, a Roma. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina. Alle 7, 15 su Rai 2, andrà poi in onda, come di consueto, il programma di Fiorello Viva Rai 2, Viva! Grazie a tutti!